Soucheng Itali, Corso Intensivo d'Italiano Ottava lezione Lezione numero 8 Conversazione Da che parte abiti? Devo andare via presto, perché abito lontano Non ti preoccupare, stanotte puoi dormire da me, a casa mia Grazie, da che parte abiti? Dalle parti della stazione ferroviaria Vicino alla casa di mia sorella Dov'è la sua casa? È di fronte al palazzo del Ministero del Tesoro È lontano dall'università, però Lei insegna all'università, vero? Sì, ma non ci va tutti i giorni Quando non ha lezione, lavora a casa Ora andiamo a casa tua, in macchina o a piedi? Facciamo due fermate di autobus e arriviamo fra cinque minuti Dove siamo? A Piazza Venezia È ancora lontana la tua casa? No, siamo quasi arrivati In che via è? In via Garibaldi al numero 10, interno 3 La casa è in fondo alla via Grazie a tutti i giorni